Le diverse culture hanno tutte definito i ruoli di genere, ciò è avvenuto ovviamente in maniera diversa, variando da cultura a cultura. Un testo classico di riferimento in questa direzione è senz'altro il lavoro dell'antropologa americana Margaret Mead, che nel 1949 pubblicò un testo tradotto in italiano col titolo di Maschio e Femmina. Un classico dell'antropologia nel quale la Mead cercava, osservando alcune popolazioni primitive della Nuova Guinea, vivendo a stretto contatto con loro, di dimostrare la mancanza di corrispondenza naturale tra il sesso biologico e il genere, e di come questo rapporto cambiasse a seconda dell'area geografica, della cultura e della storia. Concetti come mascolinità e femminilità per la Mead andavano contestualizzati nell'ambiente e nella cultura, dando alla società stessa il ruolo di decisore del valore da dare all'identità di genere. Il suo lavoro è stato naturalmente considerato una pietra miliare di quello che viene chiamato relativismo culturale. Ma cosa si intende quando si parla di relativismo culturale? Semplificando molto, si può dire che è la posizione secondo la quale ogni credenza è relativa all'individuo all'interno del suo contesto sociale, ovvero non esiste giusto o sbagliato, perché questi concetti sono relativi e specifici per ogni cultura. Quel che è considerato morale in una società potrebbe non esserlo per un'altra. Non esiste quindi una moralità universalmente valida, perché nessuno può arrogarsi il diritto di giudicare un contesto sociale diverso dal proprio. Il paradigma del relativismo, che dall'antropologia è slittato velocemente nella sociologia, è da qui diventato una sorta di principio guida, un'idea dominante, contiene in sé però una mela avvelenata, come quella di Biancaneve. Raymond Boudon, sociologo contemporaneo francese morto nel 2013, sul relativismo ha scritto molto. Esiste un relativismo ovvio, un relativismo evidente, che vede ciascuno di noi definito dall'ambiente sociale nel quale è vissuto. Ed esiste poi un relativismo radicale, che spinge una simile ovvietà ai suoi estremi, in virtù dei quali si arriva ad una concezione ipersocializzata dell'uomo, del quale non è possibile liberarsi. Il relativismo proda così all'inesistenza del vero, depotenziando ogni nostra riflessione, ogni nostra coerenza logica, da qualsiasi speranza di verità, verità assoluta intendo. Se volessi percorrere questa strada, io che sono donna bianca occidentale, forse non potrei mai liberarmi da questa sovrastruttura culturale, sarei drogata di cultura. Ma ovviamente le cose non stanno così, se non altro perché non esiste una sola cultura, ma più di una.